Ciao a tutti, oggi prepareremo il frappè all'albicocca. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti. Gli ingredienti sono albicocca snocciolate, latte freddo e zucchero. Viamo via alla ricetta. Iniziamo subito polverizzando lo zucchero. Inseriamo lo zucchero nel boccale. Facciamo andare il bibi per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo lo zucchero. Andiamo ad aggiungere le nostre albicocche. Andiamo a frullare il tutto per 20 secondi a velocità 8. Andiamo adesso a riunire sul fondo il nostro composto. Andiamo a recuperare anche quello che c'è sul nostro coperchio. Posizioniamo la farfalla. Andiamo ad aggiungere il latte. Andiamo a frullare per 2 minuti a velocità 4. Il nostro frappè è pronto. Possiamo andarlo a mettere in una brocca o direttamente nei bicchieri che servirlo. Frappeti albicocche. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.